Ben ritrovati cari telespettatori, rieccoci insieme, siamo accompagnati quest'oggi da Riccardo Capitanio, ben ritrovato, vicepresidente Ascon Commercio Padova, grazie di essere qui con noi, tra l'altro vicepresidente nazionale Federazione Moda Italia, ricordiamolo perché c'è anche quella tra l'altro. Allora, i temi sono diversi, riguardano attività commerciali, riguardano tanti servizi che sono importantissimi per la vita di una città, per noi cittadini e debbono in qualche modo funzionare. Però, e questa è la prima tematica che affrontiamo insieme, se la città fa dei lavori di ristrutturazione, fa degli interventi importanti, non sempre le cose vanno come devono andare, se poi la città ha un sottoterra anche archeologicamente, diciamo così, fiorente, ci sono delle interruzioni, i lavori si prolungano e questo ne provoca ovviamente dei danni, in traffico innanzitutto, le persone non possono più, non trovano posteggio e poi le attività commerciali. Padova, ma non solo Padova, abbiamo anche altri comuni della provincia, abbiamo una zona di Montegrotto dove non ci passa più nessuno, però devono lavorare. E allora, cosa sta succedendo, quali sono i rapporti che voi potete mantenere con chi ha commissionato e sta svolgendo i lavori? Certo, in prima battuta, i lavori pubblici, l'innovazione della città è il primo posto ed è importantissima, però ci sono, e non siamo come Commercio, non siamo contrari all'innovazione, anzi, dobbiamo creare città molto più, molto attrattive e per essere attrattive bisogna rinnovarsi. Oggi abbiamo un centro di Padova che è diventato impraticabile, già prima era difficile, già prima non era proprio di quelli più facili. Oggi con i lavori, lavori molto molto invasivi per il tram, poi oggi si è messa anche, ieri si è messa la conduttura di acqua e di gas, insomma hanno amplificato ancora i lavori e quindi qualcuno, poi la comunicazione, anche con una comunicazione molto negativa verso questi lavori, e riusciamo, quindi il cliente che deve andare nei negozi, i nostri ovviamente associati, magari fa qualche deviazione in un centro commerciale o in altri centri storici magari. Quindi è una problematica che stiamo affrontando e stiamo anche monitorando il Comune perché a farne, a pagare le conseguenze è il commercio padovano. Questo è, lo sottolineiamo, lo sottolineiamo tutti i giorni sui giornali e quindi siamo vicini ai nostri associati, vicini al commercio e quindi dobbiamo rimettere un po', capire un po' la linea di controllo dei lavori, cioè cercare di creare ancora meno disagi perché oggi... Ecco però sto pensando e ricordo benissimo il periodo pre-Expo a Milano, su Milano capitale, una città-stato che prospera con dei prezzi fuori dalle logiche dei mercati eccetera, però ricordo qualche anno prima del fino arrivare all'Expo praticamente era un cantiere, un cantiere incredibile, però la città era praticabile ugualmente e si poteva comunque muoversi, certo che notavi che non era questa grande bellezza. Torino ha avuto dei lavori importanti effettivamente, poi se non erano anche quest'anno c'è ancora qualcosa in corso e molto è stato fatto, per citare due grandi città, però il commercio c'è, i negozi passi sotto, vai delle strettoie, ma che cos'è che non funziona? C'è Padova, a me sembra che non la riesci neanche a raggiungere, c'è un problema di posteggi proprio, di raggiungibilità, ti passa la voglia, non sai dove mettere la macchina? Smaterializzi da qualche parte? Allora c'è un problema, anche Milano e Torino-Roma hanno fatto soffrire delle zone, hanno fatto soffrire della parte di commercio che si è trasformato magari in altre zone. Poi Milano e Roma hanno una metropolitana che è un mezzo di trasporto in cui andando sotto non si vede più niente e si bypassa un po' il traffico, quindi sono strutturate decisamente in maniera diversa, hanno delle grosse arterie stradali e quindi si riesce a lavorare e si riesce a organizzare meglio i lavori. Padova è una città molto difficile, è molto complicata come viabilità, si poteva ovviamente fare meglio, forse metterci più tempo però essere meno invasivi, invece abbiamo preferito probabilmente aprire tutti i cantieri e andare avanti, andare veloci per probabilmente chiudere i finanziamenti con il PNRR. Quella è un'altra cosa che incombe sulle nostre peste. Accettiamo questi compromessi di aprire questi cantieri però penalizziamo tanto il commercio, la città è fatta di commercio, i centri storici sono nati perché c'era il commercio, oltre è legato alla cultura, insomma però tutto gira intorno al commercio, il benessere gira intorno al commercio. La vita della città, la vivibilità delle città. Esatto e quindi abbiamo creato un danno importante, dico abbiamo perché parlo in plurale, perché siamo tutti cittadini e quindi abbiamo tutti la propria responsabilità, certo che oggi era per non dare al 100% la colpa al Comune, però oggi il Comune è un tassale importante della responsabilità dei lavori. Ecco perché poi guardando anche alcune notizie sui social eccetera, emerge anche un fattore di alcune zone di insicurezza, alcune zone proprio del centro storico dove c'è del degrado, c'è anche dell'insicurezza, paura da parte degli esercenti quando chiudono uscire la sera oppure alcuni operatori di negozi insomma. Sì purtroppo siamo in una generazione, succede anche nei centri commerciali, anche nei centri storici, abbiamo una generazione di giovanissimi che sono molto aggressivi e non hanno paura di niente. delle baby gang che la maggior parte dei reati, di quello che fanno, lo fanno per pubblicare, per pubblicare nei social, per fare i tiktok, per vedere agli altri quello che riescono a fare. Quindi abbiamo una generazione che ha bisogno, può essere stato il covid, ma ormai dovrebbe anche essere guarita la mente dopo il covid, però abbiamo forse la parte delle relazioni con i genitori che è sbagliato. Abbiamo un problema che è un problema che si chiama giovani ed è legato molto anche al commercio perché i giovani sono chi spenderà e chi sta spendendo nei negozi, quindi è tutto collegato al commercio anche questa problematica. Ecco, certo che abbiamo una Padova che è sicura in certe zone e insicura nelle altre perché dichiarare che Padova è una città insicura è completamente sbagliato. Abbiamo delle zone, come in altre città, in cui è difficile controllarla. Abbiamo bisogno di più agenti? Probabilmente sì. Quindi di qui arriva lo Stato centrale che deve fornire ovviamente poliziotti e carabinieri, poi abbiamo la polizia municipale sempre attiva, però è difficile anche vigilare su tutto un territorio. Anche se le telecamere stanno facendo un grosso lavoro, però le telecamere si vanno a visionare a reato fatto. Eh infatti, non è il caso di arrivare a questo. Adesso qua stiamo vedendo appunto i mezzi di trasporto pubblico, qua ci sarà appunto la nuova metropolitana di superficie insomma che dovrebbe arrivare per tagliare un altro tratto di percorrenza importante della città. Un percorso molto importante anche per tutta la zona. Cosa è partire da Urbano fino ad arrivare alla zona, limitrofa alla zona industriale, no? Sì, esatto, verso la Piovese. E quindi sarà un intervento significativo, forse anche per aiutare... Dobbiamo entrare anche nella cultura, dobbiamo spiegare, perché non è facile, ovviamente i clienti più giovani sono più, quasi non sono interessati della patente della macchina, invece è una generazione un pochettino più adulta e se non si muove in macchina non si muove, quindi abbiamo anche una cultura di utilizzare i mezzi di trasporto. Ovviamente se è un mezzo di trasporto funziona. Bravo, e là c'è un problema che siccome prescinde, prescinde perché manca il personale, no? Questo è un problema che riguarda tutte le realtà, non solo Padova. Esatto, rimane in qualsiasi cosa. Adesso noi parliamo, tante volte apriamo anche una parentesi di immigrazione regolare, ovviamente. L'apriamo che se non ci sono gli extracomunitari si ferma l'economia di Padova, non solo di Padova ma di tutta l'Italia, perché i mezzi di trasporto di persone e i mezzi di trasporto delle cose, quindi i corrieri, il paese logistica, viene esclusivamente gestita da personale extracomunitario, quindi sono persone fondamentali per ricevere il pacchetto da sotto casa, per ricevere il pacchetto nei punti vendita. Quindi c'è una cultura che dovrebbe emergere e deve essere un po' diffusa relativamente all'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico quando c'è, quando funziona, però lo stato attuale non c'è e quelli che pochi che ci sono non funzionano, cioè non passano praticamente, passano chissà ogni quando, quindi è un po' una questione così. Ma l'altra è quella di cui voi avete sempre reso nota la problematica dei posteggi. Sembra che siano anche aumentati i prezzi dei posteggi, così? Sì, sono aumentati, di poca cosa però sono aumentati. Allora abbiamo questo rigetto del mezzo dell'auto nel centro storico o nella prossimità di Padova, perché il centro storico potrebbe essere anche sul ciotolato, all'inizio del centro storico ci vanno i parcheggi. Cioè noi voglieremo trovare delle città attrattive, portare le città senza i parcheggi delle auto. L'auto ha un mezzo di trasporto che ha più di 100 anni ed è un mezzo che continua a essere utilizzato. Non c'è un'alternativa così valida, soprattutto da chi arriva alla provincia. Una persona che arriva da Piove di Sacco, da Rubano e va in centro a Padova, non può permettersi con la famiglia di prendere la corriera, l'autobus che non si sa se passa, non c'è una certezza e passa, magari nel domenicale passa una volta ogni tre ore e se perde l'autobus stanno a casa, è una città che non è strutturata, non è così grossa per essere prevalentemente ad uso dei mezzi di trasporto pubblico. Padova ha bisogno delle auto che siano inquinanti, certo sono inquinanti, faremo qualcosa, siamo passati all'Euro 6, limitiamo all'Euro 6, cioè cerchiamo di lasciare un accesso magari alle auto meno inquinanti e cerchiamo di aprire anche dei parcheggi in più, di trovare dei parcheggi in più anche perché le macchine che girano nel centro a motore acceso per cercare il posto auto inquinano, quindi prima trovano il posto, prima si spegne il motore. Infatti, ma anche dei posteggi che possono essere, le persone magari imparano a fare qualche un po' di strada a piedi in più, non muore nessuno, però dei prezzi calmierati perché se uno deve spendere tanti soldi per il posteggio, alla fine sono quelli che magari non va a spendere, visto che i bilanci devono tornare al bar, in una consumazione o in qualche cos'altro, perché il bilancio tiene conto di questo. Diciamo, abbassiamo gli utili delle partecipate e diminuiamo i prezzi dei parcheggi, perché abbiamo degli utili importanti, quindi abbiamo anche la possibilità di non aumentare il reddito al dirigente, ma diminuiamo il prezzo del posteggio e cerchiamo di fare un servizio che sia utile alla comunità che crei anche dell'utile ovviamente di impresa, però che sia all'interno. Ecco, scopi tanti del suo settore ci seguono, alcuni ci avevano appunto sollecitato, ci hanno anche scritto, segnalando le difficoltà comunque del comparto. Che cosa concretamente lei, voi proponete che si possa fare? Perché queste sono delle cose ragionevoli che bisognerebbe fare, però poi ragionevolmente risulta difficile, perché ci rendiamo conto che i prezzi dei posteggi sono aumentati, che i lavori sono in corso e così continueranno, che gli autobus non ci sono perché tanto non ci sono lavoratori e così via. Però concretamente per aiutare questi operatori, negozianti, commercianti, eccetera, a riuscire a tenere botta in questo periodo qua, che cosa proponete? Avete aperto un tavolo con le istituzioni, insomma c'è qualcosa che avete fatto? Allora, togliendo gli alibi che non sono alibi, poi però sono neanche scuse del commercio, del problema dei parcheggi, del problema dell'accessibilità. Sì, quindi sono cronici diciamo, sono le cronicità. Dobbiamo ovviamente adeguarci al mercato odierno. Oggi il mercato, il cliente è cambiato da ancora con il Covid, dopo il Covid abbiamo fatto un salto di 20 anni in avanti e purtroppo i commercianti non sono riusciti tutti a fare un passo in avanti, non sono riusciti a rinnovarsi, non sono riusciti a parlare la lingua del cliente e a generare servizi per il cliente e quindi la ConfCommercio a Scompadova, noi abbiamo ovviamente una struttura importantissima di formazione accreditata con la possibilità anche di fare dei corsi gratuiti alle aziende dove creare della formazione ad hoc per i venditori e per i commercianti, anche per gli imprenditori stessi, perché abbiamo bisogno di visioni completamente diverse. Bravissimo, l'interrompo qua perché è molto importante quello che sta dicendo. Tra l'altro ne ho parlato anche in occasione con alcuni che operano nel settore e non riescono neanche a vedere cosa serve alla formazione, perché chi viene dal mondo della formazione, lei anche è docente tra le altre cose, la dà per scontata perché si impara sempre qualche cosa, c'è sempre qualche cosa che si può migliorare. Chi invece ha sempre lavorato non riesce proprio a capire come in certi ambiti si possa cambiare. Allora qualche minuto in più dobbiamo dedicarlo a questo argomento, allora facciamo così, andiamo in pubblicità, restate canale 19 sempre con noi, apriamo anche questo capitolo ma ce ne sono tanti altri che affrontiamo insieme, quindi aspetto.